ciao a tutti e a tutti ciao ragazze e ragazzi vi ricordate l'altra volta che abbiamo iniziato a fare il calendario dell'avvento continuiamo andiamo fino in fondo oggi lo finiremo perché non sappiamo se faremo un altro video non lo sappiamo se faremo un altro video tra per natale abbiamo trappi impegni giusto vediamo se non dovessimo riuscire l'abbiamo completato continuiamo dove eravamo arrivati alla casa alla 9 9 9 9 9 19 17 tutelato cercando e poi ce n'è uno che proprio che dal 24 se le abbiamo tutte in sequenza allora 1 2 3 abbiamo il 9 che l'ho trovato 10 in fondo è già visto difficile abbiamo fatto un po di spesina allora questo cos'è questa sembrerebbe proprio la slitta di babbo natale ha anche bella con tutti i regalini sopra tutti i regalini sopra mangiatele una da ora la prossima alla salita non ti piace maggio quello che ti piace la slitta mi dispiace un po poi 10 10 in fondo 10 in foglio cos'è questo un carciofo ma che carciofo natale ma che carciofo natale ah no è un pesce che c'entra il pesce natale magari pesce se si mangia mica il pesce alla vigilia alla vigilia a me non piace ma no quello di cioccolata si allora 11 un'altra moneta no cos'è è la luna la luna con le stelle che bella però aspetta abbiamo fatto un errore clamoroso perché il 3 ce lo siamo dimenticato l'altra volta la prima adesso penso che sia un calendario dell'avvento più scalcinato di tutto il web di oggi abbiamo fatto tutto perfettissimo perché ce l'hanno trovato i lingotti dolce ma il 3 me lo sono dimenticato devo fare l'altra volta e ma beh ma no che scemo è richiuso vedete infatti chiusi no 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 abbiamo fatto tutto bene ti ho detto non chiuderli perché sennò poi ti confondi come siamo perfetti l'undici devi trovare l'undici me l'ho già perso figurati allora dieci hai trovato l'undici 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 l'ho già aperto l'undici di riaprire allora il dodici il dodici che di qua non riesco a vedere bene e ma sono scritti anche molto molto lievi sono vendita un'altra sembra un'altra monetina e invece e invece sembra un angioletto con tanto di stellina in mano vedete che facciamo così perché sembra così una stella cometa l'angioletto d'arte che c'è la terra cometa cos'è questo il matrimonio non è già fatto 12 13 abbiamo fatto questo 12 adesso c'è il 13 si vede si vede allora 13 13 cosa è una moto la buona tale sull'uomo hanno una macchinina se vedeva una macchina di quelle tipo beh può essere un gioco di un bambino o una macchina un trenino sembra più una macchinina di per essere un gioco di costante olio si 13 i 14 il 14 cosa troveremo nel 14 cosa guardi tu nasone un altro anno magari ne scegliamo un altro chiaramente ne faremo un altro questo l'ho aperto proprio male questo 14 ma non riesci a aprirli è una campana campanella ah beh ci sta con natale quella che gli iscritti poi devono metterla campana la campanellina quella piccola ha messo un video corriamo iscriviamoci a centinaia ma perché devi sempre dire così tutte le volte no perché come iscrizione non è che però l'errorismo abbiamo fatto il quattro il quattro non avevano già per l'aprendimento abbiamo fatto solo lì si sono richiusi si sono richiusi mi sembrava da 14 15 ce n'è ancora poi continuiamo dopo facciamo vedere un po di cose perché no quindi c'è un cammello se vuoi fare vedere un po di roba una paperella vedete da mettere magari nel presepe noi ce l'abbiamo la paperella è una cosa di mio nonno non può parlare che sopra cent'anni poi il 15 di 16 non quello che costano anche i personaggi del presepe pensavo le paperelle no guarda che costano sì sì per fortuna tutta roba vecchia qualcuno nuova la sua figura perché ma che fa la sua figura eccola qua la stella cometa se la comunità era sul 16 vuoi far vedere un qualcosa che abbiamo comprato arriviamo e poi arriva fino al 20 e poi gli altri quattro li facciamo dopo si cerca 17 17 perché sono ritrovato forte ma no perché ecco 17 perché con tutto disegnato così un livello non so più quello di una volta ragazzi ma no no ah sì cos'è è un alberello di natale alberello di natale 17 18 ora dovrebbe essere più facile perché l'abbiamo aperto tutti 18 una sagoma che non capisco cosa sarà secondo voi ebbene sì questo è un pupazzo di neve con tanto di scopa carota eccetera 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 ci voleva chissà se ne dichiarà di ciò non ho mai visto un telecomanismo in un capodanno sì capodanno sì nel 1995 poi ma natale non ho mai visto in tutti questi migliori anni si è venuta con meno molto piccoli no ma non ha mai detto niente nessuno 19 giusto non diciamo sì che poi è un casino se per me si per i due funghi a me piacciono tanti funghi i forcini questi sembrano proprio dei porcini un grande cercatore di funghi un tempo ecco qua porcino adesso di cosa esatto non sembrerebbero forcini sembrerebbero quelli quella mannoide si chiama la manitta muscaria che io da bambina quando dicevano se un fungo disegnavo sempre quello è quello delle fiabe più colorato è bello ma poi questo leone ci ho dato un leone guardate un leone non so bene cosa posso segnare con natale cosa ho visto un asinello non so il 9 però non abbiamo aperto tutto allora vediamo un po che abbiamo aperto tutto caldata tutte le caselline siamo arrivati al 20 ci rimangono proprio le ultime poi in entrano e prenderemo un altro magari voloso ma di un'altra marca questo si è già aperto da soli vediamo dopo ma viene finito siamo arrivati al non so di troppo voi 19 no 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 siamo arrivati al venti no al venti sì perché ha detto che arriviamo fino al venti circa 20 20 le altre quattro le abbiamo fatto anche una spesina alla facciamo vedere i regaloni che fanno ora un regalo è questo siccome ho superato un top di spesa non è grave vedete qui abbiamo la maionese squeeze eccola qui e regalasi con nuova di allevamento a terra ecco qua carina semmai fatta sì quella che vabbè per si apre qui si invita ci sarà sicuramente questo chiaramente lo sapete benissimo devo far vedere anche l'altro regalo che hai preso ma siamo delle dopo dopo prendiamo la roba del priera allora questo qui è chiudere 1 è chiuso e chiusa ma non è chiudere la fine per le altre non sono stato per questo poi ok facciamo vedere la birra tina era la best bra o questa qui visto che adesso è natale si beve di più allora poi queste cose al vetinello baby erano in offerta e ve lo posso anche dire non posso anche dire che il pentere non offerta è lo baby tanto preso poca roba stavolta speso solo 21 euro 63 quindi le salviettine poca 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 si insomma verso una cosa mi aspetto sempre meno è la maionese che avete visto spalmabile 139 ma in questo caso è regalata perché io l'ho accumulato non so punteggio c'ho la parte ogni tanto c'è regalino e questo qui ovviamente non la trovo la cosa dice quale che ricarica salviettine 1 e 65 lo so perché salviettine ricarica perché c'era ricarica detto abbiamo messo tutti i pezzettini di cioccolato che spaliranno presto a questi qua poi grazie i soliti fagiolini e di questi ce l'avete una nausea sono sicuro io no perché mi piacciono poi ecco questi qua costano veramente poco sono buoni tu mi dici che questi hanno un sapore meno artefatto di quelli della lì si vedrà lì del costo un po di più s tanto burrosi burro di accetto invece di sentire il gusto della frutta sentire il gusto di una frutta artefatta che sembra burro e non sono bio così dove ti spingono a comprare i bio anche io sono così invece bisogna dire che in generale proprio abbinato del tutto il gusto devo essere sincero io lo dico quando mi sembrano come questo meglio quelli dell'euro spin in generale sono migliori dei gusti lì magari la prossima volta di colare la roba è ma dipende cosa prendi questo ad esempio ma io lo spi ma la credo era lo scelta a pochissimo veramente poco questo qui questo veramente poco in questo qui vabbè lasciamo stare 49 centesimi poi il latte scremato parzialmente scremato quattro questo qui a lunga conservazione non lo prendiamo sempre una conservazione a lunga conversazione questo poi andiamo nella diciamo per per chi non vuole mettere troppi zuccheri di questo tipo abbiamo 21 questa bella copiata qui tè zero alla pesca alla pesca vedete non so se si vede che sta arancione arancione questo vero perché non vedo bene i colori no città poi di questo colore questo qua arancione me lo dici per darmi ragione arancione perché tutte le volte si gialla i colori ah beh sì tre volte tra lei e il nostro figlio ma no io ho detto che azzurro no è verde oppure dico azzurro è giallo no è arancione non lo so ma si va arancione questo sincero perché è già lo vedo quello della della maionese in giallo questione di sfumature anche quello si c'è perché quella si spegne la caldaia così non sentite questo rumore di fondo cola zero anche questa qui c'è la metto un attimino qua poi se per favore mi passi da dire infatti vedere la facciamo vedere la solita acqua l'acqua minerale questa qui naturale di un centesimo in questa veramente poco come la marzelletta che dicono papà bevo un po d'acqua no fermo che fai è per natale per dire la miseria che di larga no e poi la carta igienica si deve appena uno supplemento per la tale visto le mangiate che ci faremo che mangiate vabbè ma uffa mamma mia non neanche voglia certe volte veramente pesante vediamo gli ultimi si per favore mi riprendi che ci si è appena per la è presa per non voltare no e allora prenderà prenderlo io votare l'ho preso stamattina ecco questo è l'altro regalo a questo come fa molto piacere formaggio fresco spalmabile non è light lo stesso l'importante che sia corrombo regalata no come si dice a genova serva regalata sempre anche scalduto va bene lo stesso ma poi c'è questo qui si poi grazie poverino la faccio la faccio camminare e non e non riesce neanche a camminare prima di schiena poi ci sono in le stelle sono veramente il mostro poi i piedi e allora poi ci sono da divent'anni che fatisca di schiena io ho sempre potuto di molto di mal di testa e quindi giù c'era la nuova al gina ma ne facevo dei fiaschi e di nuovo al gino una volta si fa venire un alice amarissimo ma qui c'è questi quali ho dovuti cercare un po perché erano proprio in fondo la roba che costa poco e sempre o in basso o sull'everest e comunque c'è se è sul basso sul basso e all'altezza zoccolo e ho preso qua i quattro giustari questi qua va bene c'è che cacchio facciamo stasera facciamoci due giustari questi poi cortane cotolette con spinaci queste qua singole cioè singole nel senso solo due vengono che successo e colorato e franato qualcosa poi queste qua 99 centesimi queste queste sono quattro stesse identiche offertona una e 99 centesimi però 99 centesimi per due se non mi sbaglio dovrebbe fare un euro e il 98 di ma conti farita perché io a schiena magari faccio un errore un euro 98 99 più come se fossero due fai così se fossero due queste singole costano 99 queste costano 1 99 però c'è risparmio di un centesimo ma queste sono le stesse sono le stesse queste sono quattro però siccome questa costa 1 99 il risparmio non è poi così perché se io prendo due di queste spendo un euro e 98 perché togliamo un centesimo da ogni pezzo e invece questa è 1 e 99 offertona vabbè per un centesimo ho capito ma non mi conveniva prendere due di queste risparmio ma non ho capito allora sono io che mi sono sbagliato ma siamo cosa le centesimi non guardiamo il centesimo il fatto che dico un'offertona che differenza c'è se ce n'è quattro tra l'altro il peso è perfettamente coincidente c'è scritto qui è cotoletta 0 99 il doppio è offerta 1 99 un centesimo in più se ne prendessi due di queste misteri questa però che ho preso siccome non c'erano le confezioni da 10 ho preso queste uova fresche qua ma sono medie grandi sono medie sono media dal rallevamento all'aperto queste qui va immagino che siano sono le medie le grandi e le grandissime sono buone sia quelle delle spinge della video si vanno bene differentemente comunque le uova sono andate quasi via tutte ci sono queste perfezioni da secoli da 10 12 ma non so c'era dell'altra femmina che sei lì oggi sono veramente uno schiavista non vedo che noi alle pizzette per tassi lì proprio che queste belle pizzette margherita qua non c'era nessuna offerta però non costano molto è una cena uno non ce la fa insomma quattro pizzette le fa tutte e quattro queste qua non sono niente male certo non sono una pizzeria stavano andando per la parola craniata indiretta la bella craniata indiretta proprio quello che ci vuole la roba del figlio abbia fatto vedere già tutta benissimo allora proseguiamo con questo e allora saremo arrivati al 21 sono gli occhiali se non vedo niente il 21 cosa succede al 21 vediamo il 21 e 21 io fa la visita medica vediamo cosa c'è al 21 non capisco cosa fa dire cosa sono due gnomi che si abbracciano non ho capito guardate qua è un cuoricino è un cuoricino era un po sono due elfi che si abbracciano non sembra bambini gesù che abbracciano aspetta un attimo e cosa c'è la barba la madonna scusa scuola abbia pazienza bambini gesù che abbracciano san giuseppe e bambini gesù che abbracciano san giuseppe sarà mai visto è comunque a me sembrano mi sembra un elfo che abbracciano che abbracciano un uomo a questo che sarà molti pallone da calcio io odio il calcio questo qui non c'è gente che gli piace a chi piace le partite le guardo quelle però a me piacciono i mondiali e gli europei si quando ci sono le squadre si gli europei e i mondiali mi piacciono grazie a quelle che mi piacciono ecco qua queste qui anche se mi stanno un po sollevare i calciatori comunque si vedrà lo sappiamo che sta straricchi però vabbè non è per i rischi ma sarà tira se lo sappiamo se devo dire è un pallone bene se devo dirti a me piacciono gli europei e mondiali mondiali soprattutto molto mondiali ok mondiali mondiali mi piace vedere le altre squadre il confronto internazioni siamo arrivati che cosa anche non me lo ricordo più 21 21 il 21 rimanca al 22 23 già parto vedi che legge a parte niente è in alto l'aperto non stai guardando e ripetere ventità il 20 di quale 24 lo già inquadrato e 23 non ho messo è uno scherzo non è uno scherzo scusate un attimo per il posto lo vedi testo dire il parolaccio quello che va diventato la parolaccia ho detto vintia con il carnaio della vento mamma mia prima di gnomi poi il 23 è qua il 23 pure vecchio mamma mia vabbè scusateci solo noi possiamo fare certe cose vabbè è un po' di allegria sarà suo zio si vedevano si prega no no non qua lo vedi sto cazzo te lo siete adesso te lo siete adesso dov'è ridammelo ridammelo no no basta che me lo indichi col vittino è da questa parte qua hai già messo aperto no lo vedo dammelo no apelo a te dai guarda e due cambia gli occhiali scambia gli occhiali poi si dice oh è bello diventare più anziani certo un cazzo cambia è qua lo vedi ah l'ha già aperto è già aperto tre ore che te lo dico oh questa si che mi piace la locomotiva scusate ragazzi no veramente scusate la parolaccia mi fanno dire mio marito così adaltro ormai come si dice sono intatti nel linguaggio comune ecco vedi bello trenino questo anche può essere un gioco per un bambino ciuff ciuff tu 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 ma ma cosa sai ecco qua stasera ho bevuto un po' caffè sì ecco e poi arriviamo fin da mente siamo arrivati 24 quella che vestivano da tanti miei nonni che è sudata e adesso qua che è enorme è la casella che è sudata cosa c'è dentro un panettone ma già no c'è una sagoma sarà babbo natale sarà babbo natale vediamo un po' e infatti è proprio lui è babbo natale babbo natale con i doni se non mi sbaglio ha i doni vedete sì ok va bene ci pensiamo ci sono tutti qua scusate ci abbiamo aperto subito ma perché non sapevamo come abbiamo detto all'inizio se diciamo facciamo un altro video se abbiamo il tempo ecco sì siamo un po' di cosini per ricordo questo lo teniamo magari per ricordo questo qui ok ma tanto magari in altranno ne prenderemo un altro comunque noi facciamo detto questo vi salutiamo veramente perché come al solito non ho il cellulare è finita ciao ciao a tutti iscrivetevi quelli nuovi ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti